Presidente, Barbarossa alla vigilia della partenza di una nuova stagione, sempre con l'acqua e sapone protagonista. Speriamo di sì, intanto essere qui già è un grande successo perché a marzo, aprile o giù di lì non ci potevamo aspettare nessuna partenza, anzi dobbiamo cercare di salvare la pelle tutti, tutti insieme. Quindi essere qui è già una vittoria, poi è una bella giornata oggi che stiamo festeggiando i 10 anni con la IOMA, che ringraziamo, che ci hanno seguiti alla grande, un'azienda importante a livello mondiale e noi, è un nostro partner, siamo felicissimi di questo. Abbiamo, siamo felici anche perché nessun elemento del nostro gruppo è stato colpito né personalmente né le famiglie e questa è una cosa bellissima perché veramente ce la siamo visti brutto un po' tutti, inizialmente era stato preso un po' la leggera questo virus e invece pure dei grossi presidenti sono dovuti ricredere. Però se siamo ancora attenti penso che ne veniamo fuori. Torneremo ad abbracciarci perché ci hanno privato della cosa più bella che ci possa essere, perché si gioisce e ci si abbraccia. Quindi dobbiamo tornare a sorridere con un abbraccio, tutti. E magari tornerete anche ad alzare dei trofei, cosa a cui siete ormai ben abituati nelle ultime stagioni. I trofei noi, come tutti, giochiamo per vincere, poi non sempre si riesce. Noi ultimamente ci è andata bene, ci siamo riusciti un po' di più. C'è l'elemento pure un po' di fortuna, ma c'è l'elemento di avere una buona squadra e di un buon mister. Noi crediamo sempre molto ai mister perché le squadre devono fare i mister e devono dirigere loro le squadre. E quest'anno crediamo molto al mister che abbiamo preso, un giovane molto bravo, molto preparato. Non ci scordiamo che la partita di andate che abbiamo fatto l'anno scorso, che una neopromossa, ci fece il 5-0 al primo tempo. E questo ci fece innamorare, non odiare. Ci fece innamorare di questo mister così spavaldo, che è una squadra. Noi avevamo dei nomi molto più importanti. Però riuscimmo a raddrizzarli in qualche modo facendo un pareggio 7-7. Quindi il mister è ben felice di essere venuto con noi. Poi un molisano, noi lavoriamo molto bene in Molise e tutti i molisani faranno il tifo per noi, come in buona parte d'Italia, perché abbiamo una squadra simpatia che a livello nazionale ci seguono tutti.